In A1 ci sono code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e la variante di Valico e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Arizzo e Monte San Savino. In A11 coda tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, sulla FIPILI code per incidente tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Livorno, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Viadotto dell'Indiano in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, per i lavori della tramvia chiuso il tratto via Mazzoni via Corridoni, restringimento di carreggiata tra via Tavanti e via Mazzoni. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!